In Alive in Italia la nuova linea Gran Reserva della Tangerwood. Chitarra veramente molto bene, molto molto ben fatta. Questo modello in particolare ha fasce e fonte in palissando con la particolarità della cassa bassa, palissando molto bello, vediamo anche il fondo impreziosito con dei binding in acero, così come per il top e la tavola armonica che in abbiere massello. Finitura due toni sambas, veramente molto ben fatta, leggera, binding anche in acero per il manico e in morano che è satinato. Veramente molto bella anche l'hardware scelto per questo strumento, come la meccanica stile cluson e dolata. I sistemi di amplificazione sono B-band, nuovissimi sistemi introdotti da poco con anche l'accordatore, con la cover similegno. Anche qui hanno un'equalizzazione a tre bande più il presence. Insomma, la chitarra molto bella, ha una granza novità, si suona molto bene, un bellissimo feeling. La tastiera in palissandro con dei dotti in al balone, anche abbastanza generosi, si possono vedere molto bene. La paletta, anche lei con impialicciature in palissandro e il binding in acero che si ripropone su tutta la chitarra. Salina Gran Reserva è veramente interessante, il rapporto qualità prezzo è ottimo. Abbiamo degli ottimi legni e la cassa bassa con la forma piccola, spalla mancante, da veramente una grande maneggevolezza ma un ottimo suono. A presto. 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 A presto.